Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di Carvana. Dopo aver inserito i principali dati nella prima pagina del mio indicatore, andando nella seconda pagina, qui in andamento generale, ci rendiamo conto che siamo esattamente nella stessa situazione di cui parlavo proprio ieri quando ho fatto il video dove dicevo che il fatturato è pura vanità, che se non l'hai visto, tra l'altro, ti invito ad andare a rivederlo, l'ho postato proprio ieri. Dicevo, perché ci troviamo nella stessa situazione? Perché vediamo che questa società nel 2017 ha fatturato oltre 800 milioni di dollari e ha avuto utili assenti, come puoi vedere a colpo d'occhio dal grafico. Anzi, se vogliamo essere più precisi, torniamo nella prima pagina del mio indicatore e vediamo che anzi non ha chiuso in positivo solo quest'anno, ma anche tutti gli anni scorsi. Ok, che ha fatto l'Aipo nel 2017, ma comunque non ci siamo proprio con i numeri, perché nel 2017, con un fatturato di oltre 800 milioni di dollari, ha perso 62 milioni di dollari. Quindi, come dicevo ieri, è inutile farsi imbambolare dai fatturati se poi stringi stringi questa società non crea ricchezza. Di conseguenza, per il momento, non mi va neanche di consigliare un prezzo di acquisto in quanto non rispetta neanche lontanamente i miei principi di società. Ora, se vuoi il mio indicatore, come al solito, ti lascio il link in descrizione. Ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!